Il portiere bianconero Leonardo Vitali, prima battuta interna stagionale per i bianconeri contro l'Alessandria, ha deciso un calcio di rigore, com'è andata? Ma è stata una partita dove abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, siamo partiti con un modulo che quest'anno non abbiamo mai utilizzato, quindi è stata una difficoltà in più per noi, però ne siamo usciti bene, la caratteristica di questa squadra è riuscire in qualsiasi situazione a portarsi il gioco della sua parte, poi sapevamo che incontravamo una squadra veramente forte, forse la seconda più forte dopo il Monza in questo girone. Perciò la prestazione è stata buona e ci deve far ben sperare per le prossime partite, purtroppo non sono arrivati i punti che è quello che cercavamo, che cerchiamo in tutte le domeniche, in tutte le partite, peccato, però ecco, il passato è passato, perciò ora guardiamo le prossime partite. Senti, tre partite nel giro di sette giorni, domani subito allenamento, martedì partenza per la trasferta di Gusto Arsizio, una settimana veramente piena di impegno per i bianconeri. Sì, insomma non è la prima volta, ecco, siamo tutti i ragazzi che hanno diversi campionati alle spalle, perciò questo non è un problema, sicuramente c'è la difficoltà di giocare ogni due o tre giorni, però non penso sia un problema, insomma. Senti.